Ciao papà. Ciao vicinina. Ciao Giannino. Ciao papà. E la mamma? Sto facendo da mangiare, non può venire, altrimenti brucia tutto. Hai capito. Oh, ecco qua, ho portato sette sere. Stasera tutti in casa. Sandra? Pronto? Ah, zietta, come va? Ebbene, neanche i bambini, sì. Come? Venire da te a cena con i bambini? Stasera? No, no, perché Elisa non c'è, da sua madre. Come? Venire io solo con i bambini? È impossibile, è perché sono bloccato in cucina. Eh, stasera faccio il cuoco. E come no, è un hobby, zietta. E tanti hanno gli hobby, no? Ogni uomo ha il suo hobby. Cosa sto preparando? Che cosa sto preparando? Il ragù. Il mumù? No, il ragù. Eh, il ragù. Sì, ah, dice che fa male ai bambini? No. Cosa ci metto dentro? Il peperoncino. Il peperoncino. Ah, fa male ai bambini? Dici no, zietta. Io ci metto proprio un'ombra, un sospetto, sì. Scusami, ma io devo correre in cucina, altrimenti mi si brucia tutto. Ci vediamo domani. Ti abbraccio, zietta. Ciao. Oh, ma stasera tutti in casa però, eh? Sei proprio una forza, papà. E poi c'è anche sette sere. Sette sere perugina. Una linea di specialità da casa. Cremini, dragè, praline, gelatine di frutta, graffioni, per tu. Sette sere perugina. Porta dolcezza tra le cose di casa. Sette sere perugina in confezioni da 650 e 1000 lire. Sette sere perugina.